Let's go bitches, buon natale a tutti, questo video, questo vlog come lo vogliamo chiamare non lo so, è un video solo per augurarvi buon natale, niente di che, niente che, buon cantale tra l'altro, niente roba di butterfield, niente tutorial, niente di che, anzi forse è un power personal trainer su come allenarsi si per il natale, perchè bisogna mangiare tanto, veramente tanto a natale, penso che tra pasta, pizza, schifezze varie di dolci, carne, le peggio cose si mangia di tutto, io tipo ieri ho mangiato il pandoro che era tipo un glassato alla nutella, c'è una cosa troppo, però già non ce la faccio più e stasera è 24 sera, io già so cosa mi aspetto, c'è troppa roba da mangiare, ma che cazzo di convio che ce la faccio, vi pare che io non ce la faccio, ho una fame assurda, sono pure sotto peso di mio, cazzo ha voglia che gliela faccio, spacco tutto, mangio tutto, palese, proprio terminated la cena stasera. Comunque, oltre a questa cosa tiro la chem, ecco, comunque oltre a questo volevo augurarvi buon natale, quindi augurarvi buon natale a voi e per tutto il vostro supporto che mi avete dato, quindi ho un ringraziamento e oltre a questo vorrei sapere come voi state passando le feste di natale e come vi state preparando ovviamente al cenone, perchè sarà stasera, quindi scrivete qui sotto se vedete il video oggi o fatemelo sapere nei prossimi giorni, cosa avete fatto, cosa farete e così via, per sapere un pochino pure voi cosa fate durante il cenone, se vi ammazzate di cibo fate dei giochi pure, tipo noi facciamo dei giochi, ci sono proprio le faide in famiglia, giugniamo a tombola, se uno fa per primo che ne so l'ambo, ci si uccide a vicenda, ci si odia proprio, sono mercante in fiera per le carte, quello che compra più cari è proprio un buon anno parolacce, tipo no però è fighissimo, poi quando vinci freghi tutti i soldi a tutti si è proprio fighissimo, comunque oltre a questo ancora buon Natale e buon Natale a tutti, ci sentiamo nei prossimi giorni, domani non farò nessun video e non penso di farlo neanche il 31 e nemmeno il primo, perchè il primo sarò spaccatissimo, quindi ve lo scordate che io faccio il video lungo certo, mi guardate in faccia, io secondo voi faccio il video lungo, mi pare una cosa normale, dai, comunque sarebbe illegale come, non lo so, lavorare in nero, capito, cioè come se un bambino viene sfruttato a fare il video su YouTube nel primo genio, non si può, non si può il feste, comunque oltre a questo poi avrete, vedrete ora in settimana dal 26 che ripartirò con i video, video sia di Battlefield che di COD, vi darò tutte le nuove info per esempio sulla modalità ID Duty, cosa ne penso, eccetera eccetera, e anche ovviamente di Battlefield tutto quello che avete già sentito nei vecchi video. Dunque, vi saluto, bitches, ancora buon Natale, al prossimo video, buon Natale, bitches!